Amici di canalecaccia.tv, siamo ancora in casa Beretta, questa volta siamo con Elisabetta, ci fa anche un po' rima e naturalmente parliamo di abbigliamento. Collezione primavera estate 2019. Quest'anno Beretta presenta dei capi nuovi all'interno della sua collezione tra cui troviamo il conflitto Activantevo qua alla mia destra in due versioni colore, una verde e un'arancia alta visibilità certificato N2471 come capo ad alta visibilità aumentata per uso in ambito venatorio. Le giacche sono impermeabili, traspiranti e sviluppate con la nostra membrana unica che è la membrana Beretta BVB Evo che viene applicata direttamente al tessuto esterno che è un poliamide alta resistenza in ripstop per cui assolutamente indicato anche per andare all'interno dei boschi in zone comunque dove ci sono rami e ogni cucitura è nastrata. Quello che è importante da sottolineare in questi capi è l'inserimento nella zona laterale quindi sotto le braccia di questo tessuto in maglia che è sia impermeabile sia traspirante ma anche elastico e silenzioso perché in queste zone sappiamo tutti. La regina come dire bisogna stare sempre tanto tanto attenti bisogna fare sempre molto molto piano e l'attenzione e l'esperienza di Beretta nell'ambito dell'abbigliamento chiaramente risponde a queste esigenze. Assolutamente per cui sono stati inseriti questi dettagli in questi inserti che danno maggiore silenziosità e pur lasciando resistenza impermeabilità e tecnicismo. Nella parte esterna però vedo anche delle placche di Kevlar immagino. Sono materiali in poliamide ad alta tenacità per cui molto resistenti e servono proprio nelle zone in cui magari si entra nel rovo, c'è dell'arbusto un pochino più spinoso. E va a proteggere le parti più esposte perché normalmente quando si impugna un'arma si tende con la parte esterna a far sì che il gomito in qualche modo rischia di andare a sbattere di gran lunga più del fusto del corpo. È la parte che esponiamo di più al di fuori del corpo. Esattamente per cui tutti gli inserti sono studiati e posizionati nelle aree dove veramente c'è bisogno, c'è necessità. Un accenno sul peso di questi capi? Sono capi estremamente leggeri, pesano intorno al chilo, dipende poi dalle due configurazioni. Mi mancava la parola. La parte con l'arancio alta visibilità proprio per la necessità della riflettenza del colore ovviamente un pochino più pesante rispetto alla versione che troviamo lì in nylon ripstop, però sono entrambi capi leggeri e adatti sia alla stagione primaverile ma anche alla stagione invernale. Bene, amici di Canale Caccia, stagione primavera estate 2019, questi capi sono già in armeria disponibili, non vi rimane che andarli a provare perché una volta che uno ha provato un capo Beretta poi difficilmente cambia. Io ti ringrazio Elisabetta, a DVA naturalmente avremo altre pillole relative all'ampia gamma di prodotti che Beretta ci offre, non solo abbigliamento ma naturalmente anche calzature, accessori e buffetteria.